Sì, un luogo che torna a nascere, dove appunto è stato recuperato un antico capitello, un antico capitello votivo che probabilmente proviene dalla via Calzanta. Gli anni l'avevano portato a essere degradato come un po' tutto il luogo che era diventata una strada, un parcheggio. L'iniziativa dei cittadini, la volontà di riportare alla luce questa antica bellezza e poi di trovare un luogo da dedicare all'Arcivescovo Stella, ci ha portato a mettere insieme le due cose con straordinaria velocità e con attitudine da parte di tutti, dai residenti a chi ha lavorato, alle varie istituzioni, siamo riusciti a realizzare tutto questo che oggi vedete. Credo sia una bellissima testimonianza di come si possono fare le cose fatte bene, conservando la storia ma guardando avanti, restituendo i luoghi di questo nostro bellissimo paese.